Una grande quantità di materiale di alto livello incentrato sull'agricoltura ombra. L'aula magna dell'Accademia di Belle Arti Petro Vannucci di Perugia ha colto la cerimonia di premiazione legata al concorso fotografico Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l'agricoltura. Più di 150 le persone che negli ultimi mesi hanno scelto di presentare scatti di vario tipo realizzati nei contesti più diversi del territorio. Tra le principali categorie del concorso, ovvero paesaggi, animali e attività agricole, nella prima trionfo per Claudio Capretta con Lucia Fiorucci prima nella categoria animali e Angelo Bruno sul gradino più alto del podio nella categoria attività agricole. Tra i vari riconoscimenti assegnati anche la premia speciale Boschi vinto da Cristian Severini per la sua fotografia con la quale ha cercato di raccontare la bellezza e l'importanza del patrimonio boschivo. Le 76 migliori fotografie selezionate dalla giuria nonché dagli organizzatori tramite Instagram saranno esposte presso lo Spazio Europa di Roma nel mese di dicembre prima di prendere parte ad una serie di mostre itineranti in Umbria.